Con Matteo Maiocchi, schiacciatore della Kona, dal termine dell'allenamento a Sant'Ilario. Matteo, domenica trasferta a Pineto, con che spirito andate là? Con lo spirito di ogni domenica, quindi uno spirito battagliero, daremo tutto quello che abbiamo e sperando basti. All'andatevi siete in posti voi, su Pineto, proverete a replicare? Sì, sicuramente giocare in casa è un'altra cosa, l'ha dimostrato questo campionato, lo scorso, tutti i campionati di A2 precedenti, quindi non sarà facile, di là ci sono grandi giocatori come l'Oglisci, l'allenatore, l'anno scorso ha vinto il campionato, quindi sono grandi, come si può dire, grandi personalità dall'altra parte della rete, quindi starà a noi fare meglio di loro e provare a metterci qualcosa in più, qualcosa in più magari dell'ultimo periodo, sta a noi. Con Mattia Catellani, palleggiatore della Conad, Mattia, domenica altra trasferta, vi siete allenati intensamente per affrontare Pineto? Sì, abbiamo lavorato tanto su vari fondamentali per cercare di mostrare al massimo il nostro gioco, che sapremo sicuramente esprimere domenica, quindi cercheremo di dare il massimo affinché la partita vada bene per noi. Cosa vi aspettate dal match di questa domenica? Sappiamo che loro in casa sono molto forti e esprimono un gioco frizzante, molto vivace, quindi sappiamo che sarà molto difficile perché vorranno fare bene, vengono da una sconfitta come noi, quindi saranno due squadre che vogliono fare bene e speriamo che vada bene per noi. Grazie a tutti!